Le note del canto degli italiani, dell'inno di Mameli e su queste note il nostro saluto appassionati di sport, appassionati soprattutto di tiro a volo. Un saluto da Gigi Cavone, immancabile compagno di viaggio in questa disciplina. Sabatino Durante al nostro fianco. Ciao Sabatino. Beh, l'inno ci voleva dopo la vittoria dell'Italia nell'Europeo, insomma ci vuole e poi fra l'altro a breve ci saranno le Olimpiadi. E' come no, e allora nei giorni caldi, mai così caldi a livello di emozione, di attesa, di aspettativa, di speranza e proveremo a parlarne un po' nel corso di questa nostra sintesi per i giochi di Tokyo, un appuntamento classico, affascinante, davvero immancabile per questa disciplina e per moltissimi appassionati. Parliamo della World Cup Beretta, parliamo della 37esima edizione di questa manifestazione, la location è abbastanza immancabile, quasi obbligatoria, oseremmo dire, se nessuno si offende, quella di Lonato, una capitale internazionale, molti la definiscono il Maracanà del tiro a volo. Siamo nel Bresciano, sei finalisti, ma sabatino questo è stato un lunghissimo percorso, con quasi 400 iscritti. Ma in questa classica che quest'anno segna il 37esimo anno, quindi la 37esima edizione, è una formula molto particolare, poi ancora nel punteggio che spiegheremo, no? Siamo 400 tiratori quest'anno a causa della pandemia, a causa del fatto che le Olimpiade sono vicine, tanti big non ci sono, sono 400, ma normalmente a questa classica da tutto il mondo arriva 700-800 tiratori. Qui è interessante intanto perché i giovani che non hanno l'assillo di avere i vecchi o i VIP o i grandi tiratori, in questo caso c'è soltanto Emanuele Bernasconi, che fra l'altro, tu sai bene, che è il campione italiano in carica della Fossa Olimpica, vinto soprattutto su questo campo, sul campo 6 di Lonato. Quando i giovani possono mettersi in mostra le terze categorie, le seconde categorie, io da calciofilo dico che questo campo è il maracanà e nello stesso tempo dico che questa formula è un po' come la vecchia formula della Coppa Italia, democratica, molto democratica, la prossima non è tanto democratica, Gigi. Esatto, e allora tiratori un po' di tutte le età e di tutte le categorie, un eccellente modo per misurarsi, per incrociarsi e quindi per stimolare una serie di percorsi di crescita, pensiamo soprattutto ai più giovani. E allora cerchiamo di entrare piano piano nel vivo di questa finale, una finale a sei, come è facile vedere anche dalla grafica, sei italiani che sparano per contendersi il titolo di quest'anno della World Cup Beretta. In questo momento sta tirando Nicola Caretta, Nicola Caretta un figlio d'arte, giovanissimo, al suo fianco, allora come dire, enumeriamoli pian piano che tirano, Matteo D'Ambrosi, anche lui un giovanissimo, non ha ancora 18 anni. E qui invece uno meno giovane, diciamo così, un veterano, no? Che è Emanuele Bernascone di Palombara Sabina, un tiratore che ha sparato a tutto. Allora, spieghiamo, Double Trap è stata una colonna del Double Trap, che il Double Trap era nel programma olimpico insieme a Dispigno e a Daniello, poi ha sparato Fossa Olimpica, ha sparato a Fossa Universale ed è il campione, ripeto, in carica. Ha vinto l'eccellenza, ha battuto nella sua categoria un mostro mondiale che era Giovanni Pelliello, quindi a tutti gli effetti deve difendere, diciamo, un po' i vecchi di questa disciplina. Poi ci sono tanti giovani. Eccolo, Kevin Pivotto, uno di loro. È un ragazzino di cui si parla tanto bene, ha finalmente la possibilità di un grande palcoscenico. Una cosa importante per chi sta guardando, perché normalmente si vede il punteggio è 1-1-1, qui a un certo punto è 3-6. Allora, la formula è un po' una, diciamo così, una piccola provocazione, no? Perché i tiratori non hanno mai gradito la scelta di portare a 50 piattelli, no? La finale... Di questo tipo di competizioni. Quindi si spara non sui 50, ma sui 25 piattelli. Che era la formula della Fossa Olimpica fino all'Olimpiade di Londra. Fino al 2012. Jessica Rossi, la nostra portabandiera, in quell'occasione fece 75 piattelli, più 24 in finale. Sbagliò il 17esimo piattelli per rendere più umano quella grande e straordinaria prestazione. Che le è valsa, nove anni dopo, l'onore e la felicità di essere insieme, lo ricordiamo, con Elia Viviani, scelta come alfiere, come portabandiera azzurra, prima volta per il ciclismo per Viviani e prima volta per la disciplina del tiro a volo, avere l'onore di un proprio partecipante, di un proprio esponente, portabandiera azzurro. E allora, sei finalisti, 25 piattelli, per ogni piattello due colpi a disposizione e come ci accennava poco fa Sabatino Durante, il punteggio è di tre punti se il piattello va giù al primo colpo, di due punti se invece viene colpito al secondo colpo a disposizione. Ovviamente zero se il piattello viene mancato. Classifica che incomincia piano piano a definirsi, anche se gli atleti sono tutti raggruppati in pochi punti, con quattro, D'Ambrosi, Pivotto, Bernasconi e Hidan, Italo-Marocchino, di cui parleremo tra poco, a quota 14, Caretta 12 e Vincenzo Durante, per il momento ultimo, a quota 10. Questa è una piccola provocazione, il fatto di tornare 25 piattelli, opinabile questo punteggio. Io per esempio avrei dato tre punti alla seconda canna, perché secondo me sparare di seconda canna è più difficile, hai meno tempo, perché normalmente si spara il piattello centrale a 5-6 decimi di secondo, a 7-8, e se sei sinistro invece a 7-8 se sei sinistro il piattello. Quindi tu hai meno tempo a sparare sul secondo, ci vuole anche un po' più di freddezza psicologica, eccetera. Diciamo che viene premiato di più il primo colpo a segno. Però è importante perché nella grande discussione delle formule, eccetera, ognuno mette sul piatto della bilancia la propria opinione, poi la federazione internazionale a volte ricepisce. È un orgoglio anche per la televisione, per la RAI, perché con Davide Novelli, noi 7-8 anni fa, stanchi di vedere che i tecnici non erano chiamati mai in causa durante le finali, ci siamo detti, ma non è possibile, uno sport dove secondo noi il tecnico è più importante nella finale, perché tecnicamente non hanno nulla da imparare questi, ma dal punto di vista psicologico serve qualcuno che li svegli. Fino a quel momento lì non potevano assolutamente intervenire. Noi ci siamo presi la licenza di organizzare, non abbiamo organizzato noi, il Memorial Rossi che veniva sempre a fine agosto, Ferdinando Rossi è stato un personaggio importante dello sport italiano, Umbro, per decenni, per 30 anni, presidente del Comitato Olimpico Umbro, ma la cosa più importante è stato il braccio destro di Giulio Onesti e si è inventato... Presidentissimo del CONI. Quando tu eri giovane hai fatto i giochi della gioventù, e l'hai fatto perché Ferdinando Rossi si è inventato quella grande organizzazione. E allora abbiamo deciso, ma perché non facciamo intervenire i tecnici? Abbiamo deciso che i tecnici potevano fare due time out, va bene. E da lì la Federazione Internazionale ha capito il valore dei tecnici e che doveva intervenire. Difatti oggi i tecnici possono intervenire a dare suggerimenti, non solo a segni, a motti. Ma anche in un momento riconosciuto, cristallizzato anche a livello regolamentare. Un momento riconosciuto, una volta lo facevano di nascosto, ma erano sanzionati, erano ammoniti, erano espulsi. Oggi invece, grazie alla nostra iniziativa, ci facciamo belli, una volta ogni tanto, no? Onore al merito di Sabatino Durante e del collega Davide Novelli che salutiamo carissimamente. Chissà che questa idea della Beretta, che oltre a ritornare a questa formula, anche con due colpi, la Beretta cerca di mettere anche la tecnologia, perché ogni tanto ci dice nella prima pedana si è sparato un destro di 30 gradi con 8 decimi di secondi, eccetera. Questa tecnologia, che oggi non possiamo vedere graficamente in video... Ma che è preziosissima per gli addetti ai lavori, immaginiamo. Che da qui a poco possa essere anche inserita in una trasmissione che dà meglio il significato di questo sport. Certo. E allora, intanto la nostra gara va avanti, la ricordiamo ancora, la finale della World Cup Beretta, dall'impianto di Lonato, vicino Brescia. Kevin Pivotto, in questo momento al tiro, 29 punti per lui, momentaneamente capoclassifica. Poi è la volta di Emanuele Bernasconi. Ed ora, Jawad Idan, il sangue misto di questa finale. Gli va via, gli va via il piattello, ha sparato molto lungo. Poi vedremo magari i dati del shooting da Beretta, dato via, e soprattutto non ha portato sulle canne, no? E anche lo speaker ricorda, alla fine del decimo tiro, ecco la classifica parziale, con Pivotto in testa, un punto di vantaggio su D'Ambrosio e Bernasconi. Più staccati, Caretta, tre piattelli in meno, Hidan, quattro in meno, e Durante, Vincenzo Durante, ha otto piattelli di distanza da Pivotto. Però è una gara che sono lì, perché con la famosa storia dei tre punti, basta fare uno zero e l'altro fra tre, ti recupera facilmente. Quasi metà dello svantaggio, parliamo dell'ultimo in classifica in questo momento. E' chiaro che in questa maniera lo zero viene penalizzato in maniera proprio alla grande, perché uno che ti fa due zeri e l'altro ti fa due, ti va a sei punti di vantaggio, e poi è difficile recuperare, insomma. Non c'è dubbio. E allora, undicesima serie di tiro per Vincenzo Durante, ora per Nicola Caretta. Lo zero qui, comunque sono tutti, ecco questa è la scuola italiana. Matteo D'Ambrosi, tre punti, primo colpo. Il grande stile, le canne giù, in basso, a cercare il testimone, il testimone è quel segnale, no? Normalmente giallo o bianco che è sul, eccolo qui, vedi? Da dove esce il piattello, quindi giù, inclinato, chiaramente guancia stretta, no? Questo è la tecnica italiana che ci ha portato, insomma, tante vittorie ad essere in questa disciplina, in questo sport, i primi al mondo, primeggiando, insomma, davanti a dei mostri sacri delle nazioni con budget enorme come gli Stati Uniti, che ci soffiano sul collo, Gigi, però li teniamo dietro come l'Australia, come la Cina e come i paesi arabi che in questo sport hanno riflessato milioni e milioni di euro. Grandi investimenti, ma per fortuna, insomma, il talento non si può, sul talento non si possono fare trucchi e grazie al cielo, insomma, la scuola italiana continua a difendersi alla grande, diciamo, con tutte le dita possibili incrociate. Questa è la specialità, ricordiamo, lo sabatino di Jessica Rossi, è la specialità che ha portato all'oro della Rossi nel 2012 ed è, insomma, questa come le altre specialità del tiro a volo, una performance in cui gli italiani sono sempre andati bene e ci auguriamo davvero di cuore che arrivino grandi notizie, gloriose notizie anche dai giochi di Tokyo. Oddio, noi in questa disciplina una donna, ma le donne, Gigi, per la prima volta nella storia di questo tiro che normalmente ha avuto una colazione maschile, non dico maschilista, ma maschile, perché maschilista no, perché è stato sempre un grande rispetto nei confronti delle donne, soprattutto quando a Barcellona nello skit la Shansang, la cinese, è messa in riga, Quanghia, il papà di Gabriele Rossetti, Bruno Rossetti, che poi è scomparso, insomma, no? C'è stato un grande rispetto, cioè le donne ci dettano una grande lezione e quindi uno sport maschile, per la prima volta in Italia, porta più donne che uomini, quattro donne e tre uomini e le donne stanno vincendo la grande e in questa disciplina, ci tengo a sottolinearlo, Jessica Rossi ha riportato la medaglia d'oro nel 2012, quella maschile dobbiamo tornare a Giovannetti, 80-84, a Los Angeles e speriamo che magari il nostro Mauro De Filippi si riesca in questa grande impresa, non c'è riuscito un grande tiratore come Giovanni Pelliele o tre argenti e un bronzo, però l'oro è mancato, va bene? Peccato, intanto Jawa Didan in azione, che è iscritto in Piemonte ed anche in Svizzera, quindi un po' si divide in due tre, un cosmo pulita, nativo marocchino, appunto residente in Svizzera, doppio passaporto, italiano e marocchino, sposato con un'italiana. I due giovani, guarda, è un grande piacere perché queste gare danno la possibilità a questi giovani di apparire, perché normalmente non me ne vogliono i vecchi, ma insomma fanno un po' da tappo, qui 40-41 è una grande platea. Un bel testa a testa tra Matteo D'Ambrosi e Kevin Pivotto, che sembrano in questo momento, anzi non sembrano, sono, perché i numeri non barano, sono staccati rispetto agli altri, stanno provando a prendere in largo, 44 per Pivotto, 43 per D'Ambrosi, mentre chiude questa serie di tiro, i Dan, e siamo al quindicesimo piattello, con Pivotto a quota 44, D'Ambrosi 43, ci deve essere un errore in grafica, dovrebbero essere 38 punti di Bernasconi, 36 di Caretta e 35 di Durante. Hai ragione, hai ragione Gigi. Sì, un paio di refusi li perdoniamo agli amici della grafica. Guarda, una riflessione che mi viene da fare per uno che come me insomma frequenta il tira da tanti anni, la tecnica dei giovani è uguale, sono meno chiusi, perché normalmente il vecchio tiratore che va in pedana è tutto chiuso, non si guarda neanche intorno, questi giovani, se tu vedi D'Ambrosi, vedi Pivotto, sono un po' più allegri, la prendono con più nonchalante. Che tipo di credenziale può essere in carriera, soprattutto all'inizio di una carriera, se parliamo di giovanissimi, una vittoria come quella della World Cup Beretta? Che referenza diventa Sabatino? È come nel ciclismo, non vincere il Mondiale, non vincere l'Europa, ma vincere una classica. Una grande classica. Parigi-Roubaix, per esempio, la Milano-Sarremo. Hai detto niente. La stessa cosa, perché questa qui della Beretta, dell'altra grande, non credo che facciamo pubblicità, perché lo diciamo dappertutto, l'altra azienda, la Perazzi. Le due major che si dividono un po' il predominio. Il 90% delle medaglie olimpiche a livello mondiale sono di queste aziende e dei prodotti italiani e questo rende, insomma, noi italiani ancora più orgogliosi, perché anche se non vince un italiano, comunque... Non c'è dubbio, l'industria italiana da questo punto di vista è davvero dominante. A Londra e a Rio hanno vinto due croati nella forza olimpica, ma tutte e due sparavano con fucili e cartucce italiane. Insomma, un po' di taglia anche in quelle medaglie. No, d'oro ci sono, c'è dell'Italia. Un bel po' di taglia. Ma via, qui il piattello, qui è il cicalino, come si dice in gergo. Guarda, vedi questi giovani. Che avvisa sonoramente dell'errore, purtroppo. Questi giovani. La nuvoletta rossa ormai accompagna visivamente il piattello. No, per me che prosegue il tiro da tanti anni, vedere questo cambiamento, tecnicamente siamo i migliori e quindi questi ragazzi sono impostati. Però li vedo molto più così, allegri, molto più aperti, eccetera. Non sono come i nostri che sono chiusi. Siamo un po' australiani. Io ricordo Michael Diamond, che è stato insieme a Pelliello il più grande tiratore degli ultimi vent'anni. Beveva fiumi di birra prima di andare a sparare. Lui dicevo, gli dicevo, Michael, come mai? E dice, mi aiuta a prendere meglio i piattelli. E beh, ognuno ha il suo percorso. L'importante è che non si superino ovviamente certi limiti e certe regole di buona salute, insomma, oltre che di buonsenso. Intanto Kevin Pivotto al tiro ed è bello, Sabatino, sottolineiamolo, probabilmente l'avremo fatto, l'avrete fatto tante altre volte nel corso di queste telecronache. È bello perché questa è una delle poche specialità che davvero mette insieme nella stessa gara atleti con anche 30 anni di differenza a livello anagrafico. E questo fa tanto, immaginiamo che sia davvero preziosissimo come incrocio di esperienza, di energie e anche di apprendimento per i più giovani. Allora, questo è uno sport in cui è chiaro che la prestazione fisica incide. Se tu sei un grande atleta fisicamente, e poi magari ti racconterò un piccolo episodio, tu sei avvantaggiato. Però è uno sport soprattutto di testa, dove la concentrazione è importante, perché la gara, noi vediamo una finale, però prima di questa finale ci sono state 5 serie da 25. Parti alla mattina alle 8 e arrivi alla finale alle 3, vedi, gli va via il piattello, prima e secondo, canne basse, sparato molto molto lungo. Quindi questi sei finalisti si portano dietro un bel carico, sia tecnico che nervoso, già di sforzo fatto in poche ore. Tu fai 25 piattelli, poi magari stai fermo un'ora. Cioè, ricaricarsi psicologicamente è difficile, non è assolutamente facile. E quindi l'importante intanto è avere grande concentrazione. E chiaramente la vista, se non ci vedi più, addio. Però se tu stai bene di vista e sei concentrato, questo sport lo vuoi fare per molti, molti anni. Insomma, Albano Pera, che oggi è il CT della Fossa Olipica, ha vinto l'argento ad Atlanta, aveva 42 anni. Benelli, con la famosa corsa, si è permesso addirittura una corsa alla battistuta, per cui lì è tifoso della Fiorentina, ha vinto l'oro a 43 anni ad Atene, insomma. Quindi c'è spazio per tanta età. E allora, intanto, siamo davvero a un passo dalla fase decisiva di questa gara. Dopo 20 piattelli, Pivoto in testa con 59 piattelli, D'Ambrosio e Bernasconi 55, Idan 51, durante 47, chiude Nicola Caretta con 46. Però la gara non è decisa, con la storia dei tre punti. Assolutamente no. È una gara che fino alla fine, insomma, lascia spazio. Abbiamo ancora 5 serie di tiro, quindi teoricamente 15 punti a testa assegnabili. No, ti dicevo che quando conta l'aspetto fischio, io ricordo nel Perugia di alcuni anni fa, io portavo la squadra in ritiro il venerdì. Questi tiratori, grandi atleti del Perugia, della Serie A, alle prime serie che faceva facevano 50 su 50, Roberto Ripa faceva 50 su 50, Matricano faceva 49, Renato Olive faceva 46. È chiaro che dopo non conta solo la parte fisica, la concentrazione, la tecnica, e magari quando aumentavamo le serie da 50 sia dalla 75, già gli errori cominciavano di più. Certo, l'exploat può essere momentaneo, ma è anche una gara di fondo questa... Quindi il fisico aiuta, ma non è la parte più importante, perché altrimenti Fernandez, lo spagnolo che insomma sembra un atleta più di sumo che di... non poteva vincere tutto quello che ha vinto. Abbastanza sgraziato, ma eccezionale poi nei risultati. Ci piglia, ci piglia si dice in gerdico, ma è la verità. Intanto Idan in azione e si ricomincia con Vincenzo Durante e va via. Va via Durante, secondo o zero consecutivo per lui al quart'ultimo turno di tiro. Ma già lui è in grande difficoltà, quindi con questo doppio zero... Ha sparato benissimo, veloce, 36-37 metri adesso... Allora, io ti leggo il report che mi dà Data Shooting della Beretta, mi dice che gli errori più grandi, non so se noi ce ne siamo accorti, ma lo diciamo, i destri di pedana 1, pedana 2 e pedana 4. Quindi oggi il destro, va bene, era un po' antipatico. E' stato più penalizzato. E allora, siamo alla terz'ultima serie di tiri. 50 per Durante, bene per Caretta che sale a 55, ma anche lui sembra ormai irrimediabilmente tagliato fuori, anzi lo è aritmeticamente. Due punti per D'Ambrosi che va a segno al secondo piattello. Poi Gigi, più avanti, gli hanno portato il report dei tempi di sparo sulla prima e sulla seconda canna per ogni tiratore. Magari li diciamo... Diciamoli velocemente perché siamo ormai nella fase conclusiva. Allora, il tiratore 1... C'è qualche chicca. No, hanno sparato più o meno nei termini giusti. Qualche difficoltà nella seconda canna che l'hanno portato spesso e volentieri un po' fuori dai canni. Non diciamo solo così. Ci dedichiamo un po' agli ultimi colpi perché la gara è lì. D'Ambrosi sale a 67, ma Pivotto non trema e tiene le distanze su quello che in questo momento è il più pericoloso rivale per la vittoria finale. Bene, Bernasconi. Primo piattello e dunque tre punti, 64 per lui e si chiude questa serie con... Via, va lungo, va lungo, va lungo. Va lungo. Errore per Idan che resta dunque a 60. Siamo... Se abbiamo portato bene il conto... All'ultima. serie di tiro. Tre punti per Vincenzo Durante che dunque chiude a 53, per lui aritmeticamente... 56, scusate, aritmeticamente ultimo posto. Matteo D'Ambrosi. E intanto lui va a segno, vediamo che cosa combina. Lui va a segno e va a 70. Solo uno zero e che non arriva. Avrebbe tolto a questo punto a Pivotto la vittoria e l'applauso sottolinea a questo punto il successo di Kevin Pivotto. Mentre chiude la sua prova anche Bernasconi. Tre punti per lui. Fucilata sempre limpida comunque del vecchio Bernasca. E Jawa Di Dan a chiudere questa finale appassionante della World Cup Beretta, edizione numero 37. E vedete il giovanissimo Kevin Pivotto. Il figlio della storia della World Cup a vincere la World Cup è Kevin Pivotto. Classe 2004, settembre 2004, quindi parliamo di un ragazzo di non ancora 17 anni. Una immensa soddisfazione, immaginiamo, Sabatino. Sì, ne parlano tanto bene e chissà che Pera dopo le Olimpiade non mette un occhio su di lui. E allora, ovviamente le foto, tutto ciò che formalmente accompagna e correda la parte finale di una gara. Ricordiamo la classifica finale con Kevin Pivotto che vince 73 punti. Davanti a Matteo D'Ambrosio a quota 70. Terzo Emanuele Bernasconi, il senatore, 67 punti. E poi Jawa Di Dan con 63. Nicola Caretta, 60. Sesto e ultimo posto per Vincenzo Durante a quota 56. Mascherine di prammatica e noi siamo davvero sulla coda, sui saluti. Grazie Sabatino Durante. Grazie per la tua indispensabile compagnia e alla prossima. E uno su tutti i fucili, dai. Belli grintosi, eh? Onore ai vinti e vincitori, complimenti per questa fantastica... It's too early!